Forse senza di lui il microfono non si sentiva e quindi non parlavamo, scusami Paolino perché l'abbiamo individuato, come dire, clamoroso al Cipela, al novantesimo l'abbiamo individuato. Franco, grazie personalmente di cuore dall'associazione e dai ragazzi. Ci hai, come dire, hai permesso che tutto questo fosse realizzabile con molti sacrifici perché purtroppo l'associazione non gode chissà di quanti milioni di euro. Franco si è sacrificato con noi accontentandosi anche di una cifra ridotta. Grazie Franco, non è mia di tutta l'associazione. No, mi scusate. E' un pomeriggio tutti questi ragazzi che si dovevano partire con i propri mezzi per andare a provare. Quindi va un calorosissimo applauso a Antonino Lamia, a Mario Zingale, al maestro Congetta Maria, a Luca Scavone, a Francesco Giacalone, Alessio Renda e il cantante Francesco Amato. Vi ringrazio veramente, grazie e buonanotte. Grazie per l'ospitalità, è stato bellissimo. Grazie. 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 Grazie.